Quanto è difficile continuare una stagione sapendo di giocare senza senza obiettivi senza avere per mano qualcosa per cui per cui giocare? Per mano abbiamo una cosa molto importante e questo è il nostro orgoglio professionale prima di tutto e questo c'è sempre quindi un obiettivo c'è sempre e quindi questa partita non toglie l'entusiasmo che ho e la fiducia che ho per per vedere questa squadra migliorare e crescere poi qui a Napoli non credo che nessuno viene a fare una passeggiata quindi dobbiamo stare sereni e continuare con grande determinazione per continuare la nostra strada fino a fine stagione a tirare fuori il meglio. Lacrime di Ballotelli? Lacrime di un sportivo direi che è abbastanza comune. Grazie. Grazie.